La collezione di Mattia, autunno-inverno 2012-2013, si sviluppa essenzialmente in due linee. Una linea white, che è una linea del gusto pulito, l'altra linea è la vintage flavor, che grazie al suo fitting asciutto, alla ricercatezza dei materiali come i cotoni elasticizzati, le lane, i jeans, riescono comunque a far collimare perfettamente le tendenze del momento con il comfort assoluto. La collezione di Mattia, autunno-inverno 2012-2013, si sviluppa essenzialmente in due linee. L'astro nascente dell'universo di Mattia è la linea donna, trae spunto nella lavorazione dei materiali e nelle finiture dell'uomo di Mattia, dove i punti focali sono la vestibilità asciutta e i tessuti elasticizzati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.